La temperatura ideale. Né un grado in più, né un grado in meno. È rilassante, ma non solo. È quello che serve per addolcire ogni momento. È tutto questo. Metà strada da ogni luogo con tanto tempo in più per te. Il Premium Terminal di Qatar Airways Adore. Servizio a 5 stelle per i passeggeri di First e Business Class. Qatar Airways. World's 5-star airline. World's 5-star airline.